Ciao a tutti e bentornati nel mio canale eccoci qua di nuovo a giocare 8 ball pool l'altra volta ero un po' stanca letteralmente mi ero appena svegliata quindi oggi noi faremo questo allora noi ora l'altra volta abbiamo giocato a vediamo chi se lo ricorda per ora facciamo un spinner vediamo quanti soldi mi prendo dai nooo sono 150 vabbè male di 0 no basta basta allora allora play one on one ecco qui avevamo giocato qua a london ora giocheremo a sydney yey ora per chi si è perso questo è il mio profilo proprio no aspettate eccomi io sono lei ho messo lei perchè lei è aspettate è monique è bellissima e mi piace un botto allora questi sono i miei rings collection ne ho 4 london e sydney 2 devo prendere l'isbon ora poi abbiamo sono a livello 11 devo arrivare a livello 12 e ho 88 trofei su 100 quindi ce la farò poi queste sono queste altre cose vabbè poi ho i emoji questo è quello nuovo ok quindi poi non sono riuscita a far vedere al primo video questi che sono cioè non so come si chiamano cioè non so quello che si usa per spingere il coso le palline io sto usando questo qua cow q secondo me è così victory 2 mi guarda perchè ok ho questi io alcuni sono chiusi perchè non ho ancora trovato gli altri pezzi ma quello che devo fare level up è decisamente victory q perchè è 18 quindi devo pagare 480 non ci posso credere però io preferisco il cow è più carino quindi facciamo level up lui 120 soldini ok vai 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 level 2 bene grazie che bello ah c'è pure sopra collection power devo devo allora adesso devo fare traditional q ok questo pago anche questo ok level 2 purità secondo me l'altro non è più level 2 level infinito perchè ho già 18 oh qua collect rewards cos'è questo hello hey cos'è hello fa vedere you have un dramatic chat pack non so se lo userò comunque però vabbè chissene allora vanno le ciance andiamo cos'è sta roba ora andiamo cioè ho proprio la sopra a destra in alto a destra ho 28.221 soldini vabbè chissene andiamo con Sydney speriamo di vincere come l'altra volta cioè la mia foto il contorno della mia foto è bronzo è tipo due alette destra e sinistra una aletta destra e sinistra quindi bahan lui livello 3 quindi io di sicuro forse potrò vincere però vabbè vediamo colpisci entra qualcosa forza no io preferisco sempre colpire i numeri piccoli non quelli grandi perché non lo so perché non mi piacciono però se vinco comunque però vabbè chissene tocca a lui proprio perché ho la mazza lì no dai ok bene i numeri piccoli se te fai entrare uno o tre palline lì dentro ti appargono i numeri che devi tirare letteralmente quindi va bene poi coprirò la sua foto forse perché non credo che mi piaccia che io faccia vedere la sua foto però vabbè andiamo ti faccio entrare bene il mio piano ha funzionato ora andiamo e colpisco questo dai oh bene bene perché pensavo che non entrava poi dopo mi arrabbiavo ora faccio entrare tettila no 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 non puoi farmi perdere subito no eh maronna ok vediamo lui cosa tira no non puoi tirare perché c'è una sbarra quindi quella è mia non puoi tirarla vuoi capirlo non so se sta capendo il gioco però boh vabbè ehi aspetta come ecco questa è un'altra cosa guardate posso andare qui posso messaggiare quello che voglio emoji pure guardate che bello aspetta cosa posso scrivere tocca muè muè quindi andiamo qua te entri non puoi non farmi perdere bene prossima sei te allora questo blu qua che è vicino forte entra e dai che non entri perderà vabbè sopra c'è scritto vicino alla nostra fotoprofilo che a me mancano quattro numeri da far entrare e lui quattro pure ora speriamo speriamo che vinco di nuovo per ora per ora ragazzi faccio vedere la partita e così vedete un po' Grazie. Ok, è god, è god, ok. Ora, se fa cadere qualcosa là, io posso, posso prenderlo il coso bianco, la padina bianca, e che cosa, no, è vicino all'otto, adesso, no, scusami, adesso vince. Dio no, bravo, bravo, io so che ho perso, aiuto, ho perso, tutti i miei soldi vanno da lui, no, 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 io rigioco, no, scusatemi, io rigioco, io rigioco, Io devo rigiocare, ho perso tutti, cos'è sta roba? Io devo rigiocare, ti prego, ti prego. Ok, se perdo questa, basta. Cos'è sta roba? Ok, guarda, tira. Ho fatto entrarne due, nello stesso numero, va bene, sono felice. Adesso ne farò entrare un'altra, oh. Tocca a me, tocca a me. Questa. Ok, ho fatto entrare. Ora prendo te e ti faccio entrare. No, dai! Ok, ma lì c'è uno stretto. Oddio, dai! Non vale così. La sua mazza è bellissima. È tutta elettrica, la mia è una mucca. Oddio, che brutto da vedere. Poi lui è a livello 14 proprio. E ha come sfondo della sua foto, è argento il coso. E ha due, due lignette proprio. Due a destra, due a sinistra. Io invece bronzo e una ce l'ho. E sopra, sopra c'è tipo un diamante. Che bello! Non vale così. Che belloni. Vabbè, ora vi lascio al gioco. Oddio, ho fatto entrare le mie palline. Yes! Quindi, non potevo non parlare lì, scusate. Ok, ok. Wow, mi ha mandato un'amicizia. Ok, fatto. Quindi ragazzi, mi manca questa pallina, mi potrò tirare quella nera, letteralmente. Dai, entra. Dai, però, non vale. Poi, anche se scade il tempo, la riga verde, mi ero dimenticata di dirvelo. Tocca a te, poi prendrete la pallina bianca e muoverla se scade il tempo. No, no, e questo qua è bravo. Fammi vincere! Ah, no! Sei? ora ma me la prendo io la pallina bianca mi serve un righello no come e ma vince qua questo ancora va bene facciate la sconfitta ti prego no entra entra pallina bianca spostati ho vinto si abbiamo vinto e i miei soldi li ho riavuti quindi la prossima volta dobbiamo giocare a Lisbon quindi iscrivetevi al mio canale quello di Ale così non vi perdete nessuna delle nostre crazy e pazze avventure e date un po' di censo in questo video ciao